va bene mi presento io sono fabio morino sono un ex giocatore di badminton ho avuto la fortuna anche di giocare in nazionale e ho fatto tutta la carriera tecnico quindi fino al quarto livello ho avuto la fortuna anche di essere tecnico le olimpiadi di london nel 2012 ma la cosa che mi premi di più dirvi è che sono un vostro collega e insegno nella scuola superiore di televi montalicini di acquitermi allora banda le ciance intanto il corso dalle 4 alle 7 io spero di finirlo assolutamente prima io solitamente non faccio pause lo dico subito perché almeno vado dritto come un treno ma sicuramente voi sarete più contenti di finire mezz'ora prima che fare qualche pausa nel mezzo del corso io vi presento immediatamente il manuale manuale che vi ricordo che vi sarà inviato per me ok io lo scorro velocemente ci parlo sopra e dico le cose secondo me più essenziali e la cosa che mi preme di più è che all'interno di questo manuale c'è proprio una progressione didattica che potrete assolutamente fare nelle vostre palestra scuola che siano scuole elementari non ci sono purtroppo i docenti di scienze motori ma ci stiamo arrivando che sia la scuola media che sia la scuola superiore ok allora io vado subito a condividere dal mio schermo eccolo qua perfetto abbiamo chiamato questo webinar bar mito a scuola lo sport che non temi distanziamento perché il bar mito gli sport che assolutamente si possono fare anche in questo periodo questa prima parte del manuale ci sono delle informazioni che probabilmente tutti noi conosciamo ma è giusto ogni tanto fare un refresh perché a volte poi quando insegniamo ci dimentichiamo tantissime cose io compreso e quindi una parte un pochettino più generale dopodiché entriamo come vi ho detto in quella progressione dedicata al bar mito intanto ricordiamoci le curve di crescita che è importante insegnare la tecnica di base quindi non nella sua forma specializzata ma la forma più grezza in questa faceta qui nella scuola elementare la scuola primaria quindi finalmente adesso c'è la luce non riforma specializzata in scienze motore della scuola primaria e forse nei prossimi anni fra dieci quindici vent'anni ci troveremo alle scuole medie nelle scuole superiore ragazzi un po più abili a fare sport o più che altro più appassionanti a fare sport che proprio in quell'età in questa fascia di età qui che si appassionano ragazzi a fare sport non solo si allenano i ragazzi a fare determinati gesti e iniziamo a dire che è importante come scritto qua iniziare bene per non dimenticare e perché questo vale un po per tutte l'età soprattutto quando siete più piccolini perché si impara qualcosa di scorretto di non corretto e questo movimento non corretto si continua a portare nel tempo si automatizza si forma proprio una sinapsi un collegamento neuromale e cosa succede che poi anche se il gesto si ricorregge nel tempo e succede che poi sotto pressione il nostro cervello tempo bastardello va a reclutare quel gesto gesto che per primo è stato automatizzato che a volte spesso volentieri è quello scorretto quindi capite che insegnare male vuol dire poi dotare ragazzi di un bagaglio molto scorretto che poi spesso volentieri utilizzeranno quindi è nostro compito nella scuola o nelle società sportive perché tantissimi di noi lavorano anche al di fuori nella scuola delle sportive insegnare bene insegnare correttamente fin da subito ed è importante perché poi se noi vediamo questo grafico se vogliamo portare un ragazzo un bambino ad alti livelli capite che qui in questo grafico in questa linea rossa le ore di un atleta di elite sono oltre 12.000 sono dieci anni di pratica possibilmente poi di pratica corretta quindi capite quanti anni ci vogliono a far diventare un bambino che inizia a fare sport un campione vado avanti e i bambini non sono cambiati perché comunque sono sempre quelli però rispetto a vent'anni fa come vedete qui nelle slide sono sicuramente meno rapidi hanno meno forza meno resistenza i livelli di mobilità particolare sono praticamente gli stessi sono tutti un po' ingrassati e adesso subiamo anche i due anni di covid e la cosa strana veramente molto strana che incredibilmente in tutta italia aumentano gli impianti sportivi infatti c'è caso adesso gli impianti di paddle che spuntano come funghi ma qualsiasi tipo di impianto e questo incensimento vedete vecchio perché è del 2003 però vedete anche qui nel slide gli impianti crescono di vista di un pinocchio ma i ragazzi sono sempre più grassi sempre più in sovrappeso spesso anche sempre più obesi c'è qualcosa che non funziona non funziona perché le palestre di ieri erano queste a riaperta le palestre con le quali sicuramente noi ci siamo confrontati un po' tutti io sicuramente ma sono sicuro anche voi le palestre di oggi sono queste uno sport che è fatto e ha relegato delegato all'associazione sportiva il divertirsi ieri era questa che si ricorda tutte queste immagini del tiro alla fune della corsa sui sacchi mosca cieca e via dicendo mentre il divertirsi oggi è spesso quello che vedete adesso qui nelle slide cioè farò parte di un'associazione sportiva che poi è associata a una federazione sportiva nazionale piuttosto che nelle discipline sportive associate e vedete quante sono ci sono 44 sport riconosciuti da alcuni a sinistra e ci sono 19 discipline sportive associate il divertirsi oggi purtroppo è soprattutto questo a partire dai telefonini dalle console di gioco a partire dai social vedete qui quanti loghi di social abbiamo e dagli e-games ok quindi giochi elettronici e la playstation e le dicendo quelle che si fanno anche da remoto collegandosi con un tuo compagno che gioca con te all'Australia e pensate che c'è un dibattito per inserire gli e-games agli olimpiadi cioè vi dico cose da pazzi però appunto a post-pessi volentieri anche negli anni nei quadrini passati sono stati inseriti sport e olimpiadi perché c'erano degli sponsor dietro che versavano un sacco di soldi io spero che questa riforma non passare mai e che gli e-games siano confinati alla scrivania ma non ai giochi olimpici e l'effetto covid ha ovviamente peggiorato le cose se voi vedete questa slide dopo il covid cioè in pandemia un adulto su quattro fa sport mentre prima un cittadino su cinque guardate i ragazzi prima il 59% adesso il 30% dei ragazzi fanno sport cioè è un impatto veramente veramente pesante però vediamo anche le cose positive che l'effetto covid abbia dato finalmente una spinta alla riforma delle scienze motorie anche nella scuola primaria forse sì, non lo so però come dice Ramezzali è stata una svuota storica perché dal prossimo anno anche se i concorsi non si sono ancora visti come il concorso ordinario della scuola di secondo grado ci dovrebbe essere per la prima volta un laureato in scienze motorie nelle classi quinte della scuola primaria tra due anni nelle classi quarti e poi nelle classi terzi e poi dovrà andare a reggirla quindi speriamo appunto che le cose cambino in meglio questo è uno studio, è una bellissima slide sono tutte cose che noi sappiamo perché noi sappiamo benissimo che lo sport è la miglior medicina e non c'è bisogno che io non ve lo legga lo potete leggere ecco, chi fa sport è sicuramente più protetto da tantissime altre patologie come anche il covid però ci hanno vietato di fare sport durante il covid o i presidi, i dirigenti sono i primi che hanno chiuso le palestre eh vabbè, sorvoliamo, andiamo avanti in Italia spesso ci sono dei modelli che si contrappongono non solo in Italia, ma in tutto il mondo che è il modello polisportivo e il modello monosportivo multilaterale il modello polisportivo è quello che fanno le polisportive lo dice la parola stessa cioè fare tanti sport dal calcio, dal basket, dal pallavolo, al nuoto, all'atletica e poi dopo un po' di tempo il ragazzo sceglierà il suo sport sarebbe un modello perfetto in Italia non funziona perché le polisportive sono poche gli impianti con tecnici polivalenti sono pochissimi e poi soprattutto andiamo contro una cultura che è estremamente calciofila e contro i genitori perché spesso indirizzano come uno sport allora l'abbiamo applicato il modello monosportivo multilaterale che è quello che noi possiamo fare anche a scuola ovvero andare anche a fare uno sport solo ma in quello sport solo dare tante basi in modo che poi sia abile a trasferirli anche in altri sport quindi non specializzare subito immediatamente quindi tutti poi si sciacquano la bocca con il modello monosportivo multilaterale ovvero magari si va alla società di pallavolo e si dice no ma noi nelle prime fasce di età bambini di 5, 6, 7 anni noi facciamo coordinazione generale schermi motori di base poi vai a vedere e fanno tutti già uno sport specializzato e qual è il problema? che imparano a fare la pallavolo come il calcio come il barminton come in altri sport ma poi quando arrivano in qualità critica sapete dai 12 ai 13 anni 12, 14, 15 anni quasi tutti smettono tanti smettono e fanno fatica a riciclarsi in altri sport a pensare fare esclusivamente solo quello se invece ti iscrivi a pallavolo piuttosto che in un'atletica e i primi anni comunque fai un po' tutto con insieme all'atletica e alla pallavolo sicuramente ampi il loro bagaglio motorio e in caso di abbandono del ragazzo a quello sport saprà riciclarsi molto più volentieri in un altro sport molto più volentieri sicuramente con molto più successo il ruolo degli insegnanti sappiamo che è fondamentale perché noi non abbiamo un ruolo noi abbiamo un multiruolo e se vedete qui questa slide siamo dei genitori, dei consulieri dei consulenti, dei gestori, dei supervisori dei fan, dei motivatori mettiamoci anche dei cazziatori perché spesso volentieri lo facciamo abbiamo veramente tantissimi tantissimi ruoli quindi abbiamo una responsabilità non indifferente ecco se noi andiamo a curare i nostri allievi che siano a scuola ma che siano anche al di fuori della scuola se qualcuno di voi allena qualsiasi ASD ecco dobbiamo sapere che l'inizio deve essere un iniziativo questo è un protocollo che si chiama LTAD Long Term Athlete Development che è famosissimo in tutto il mondo in Italia anche ma un po' meno applicato ovvero di permettere ai bambini di giocare molto semplicemente al reperto un inizio attivo, giocare comunque in casa di fornirli fondamentali vedete qui c'è scritto fun fun come divertimento perché i fondamentali erano fatti in gioco perché il gioco è trasversale e col gioco si divertono tutti qualsiasi età specialmente i bambini più piccoli e poi piano piano imparare ad allenarsi allenare ad allenarsi allenare a competere e vi dicendo in modo da costruire poi questo valore sportivo che rimarrà per tutta la vita perché poi una persona che ha fatto sport per tutta la vita, fateci caso continua a mantenersi in forma anche finita la sua carriera che per questo deve essere per forza stata una carriera di altissimo limite ecco in quest'altra slide vi ricordo questo manuale lo avrete e abbiamo anche queste palle sembrano palle da bowling ci sono tre palle, due palle, una palla dove va a evidenziare cosa effettivamente dovremmo curare di più ad esempio nei fondamentali sicuramente l'agilità l'equilibrio la coordinazione la consapevolezza dello spazio meno sicuramente la resistenza alla forza meno la capacità aerobica ok? quindi sappiamo in base anche in facilità cosa possiamo andare a curare di più o cosa possiamo per il momento tralasciare il principio del gioco sport qui c'è scritto nella scuola primaria ma io vi assicuro che lo applico spesso e volentieri anche alla scuola superiore perché ripeto lo sport curato attraverso il gioco il divertimento è trasversale tutti gioiscono e godono quando fanno un'attività motoria divertente ok? quindi il gioco sport ha dei valori quello della persona al centro nei sospetti emotivi relazionali nei sospetti cognitivi è un processo tra chi insegna e chi impara quindi c'è una correlazione sempre a doppia mandata e usando il gioco come strumento didattico per eccellenza si insegna io insegno e tu impari perché il gioco coinvolge pienamente perché bisogna trasformare qualsiasi occasione in situazione ludica e divertente perché il gioco non esclude nessuno perché il gioco è adattabile e perché attraverso il gioco si possono assolutamente aumentare e incrementare sviluppare tutte quelle abilità generali quegli schemi motori che poi gli servono in qualsiasi tipo di sport e poi ricordatevi la variabilità della pratica perché comunque i ragazzi spesso volentieri imparano anche molto velocemente e si stufano anche velocemente se sanno già fare quella cosa quindi variate e variate la pratica nello sport che state facendo o in tanti sport che proponete è importante perché il gioco sport va ad allenare nel gioco e variando la pratica che cosa? le capacità coordinative le capacità condizionali e gli schemi motori quindi vedete come nel gioco si riesce poi ad avere gli stessi risultati di un allenamento tra le argolette meno giocato più schematico più specializzato scusate se ci fate anche caso in tantissime scuole di altissimo livello stiamo parlando di top player di qualsiasi sport spesso e volentieri si allineano con giochi perché se andiamo un po' a vedere la forbice quando si è bambini è importante giocare poi quando si impara bisogna anche allenarsi ovviamente nel mezzo quando si è atleti di alto livello anche qui è importante giocare e quindi le esercitazioni devono essere di un certo tipo che ricalchino anche quelle dei bambini che spesso e poi sono le esercitazioni sempre ad alta intensità perché i bambini non si stancano mai un po' esattamente come gli atleti professionisti che sono resistenti quindi variabilità della pratica abbiamo già detto e considerare ovviamente le fasi dell'apprendimento motorico che ok vanno in base all'età però vanno anche in base all'intelletto dobbiamo anche capire che abbiamo davanti possiamo avere un ragazzo di 16-17 anni davanti a noi che però ha delle abilità di un bambino di 8-9-10 anni io a volte vedo nella scuola superiore ragazzi studenti che non hanno le abilità di mia figlia che fa terza elementare ok quindi è importante sapere che ci sono tre fasi c'è una fase cognitiva che è la prima fase questa qui che è la fase del principiante quindi in questa fase cognitiva dove il ragazzo il bambino deve imparare semplificare dimostrazioni appurate quindi anche noi se siamo abili a mostrare mettiamoci in gioco e facciamo vedere bene il movimento o comunque l'esempio che vorremmo poi applicare e fornire mi raccomando sempre feedback positivi poi c'è la fase associativa che è la fase intermedia quella più lunga quindi quando si esce dalla fase cognitiva il bambino ovviamente o il ragazzo deve allenarsi allenarsi e passare a un livello superiore dell'allenamento solo quando il livello sottostante è stato effettivamente imparato sedimentato appreso e poi c'è la fase autonoma che è la fase dell'atleta evoluto l'abbiamo anche a scuola fortunatamente gli atleti gli studenti evoluti che comunque riescono già a esercitarsi con velocità di qualsiasi sport elevate con gesti tecnici di alto livello e anche qui quindi i nostri giochi o comunque le nostre proposte devono essere simili a quelle di partita e avere velocità elevate e difficoltà simili alla gara la comunicazione sapete benissimo che è importante il verbale cioè quello che dici deve avere un senso magari detto anche nel paraverbale quindi il tono della voce la velocità del parlato e meglio ancora nel non verbale quindi nella postura nella gestualità nella proscenica quindi la distanza fra me e te che mi stai ascoltando in questo momento siamo tutti lontanissimi ci collega solamente un monito ed è importante sapere che chi riceve che cos'è che percepisce cioè io posso essere super colto e dire tutto benissimo ma il mio verbale entra il 7% cioè il contenuto di quello che dico viene inglobato nella mente il 7% il non verbale cioè quindi se io comunque il mio contenuto lo so dire in toni e modi sicuramente diversi entra molto di più ma cos'è che entra molto di più nella testa di chi ci ascolta il paraverbale cioè vengo vicino a te ti tocco ti gesticolo la mia mimica su questi poi ci campano ok non dicono niente verbalmente ma sono bravissimi magari a gesticolare ok quindi ecco quando comunichiamo andare ad usare questa fetta di torte nel modo più corretto qui c'è una ragonizzazione di una sessione di gioco vedete che si chiama ideas ideas i qui a sinistra sta per introduzione di dimostrazione e esposizione a attività s sintesi allora quando proponiamo un'attività possiamo farci uno schermino così quindi ragazzi introduzione oggi facciamo questo test dimostrazione magari lo faccio vedere io lo fate vedere voi cercando sempre magari di farlo vedere con una tecnica corretta perché spesso i ragazzi imparano visivamente ok visivo poi c'è l'auditivo poi c'è il cinestetico ma tanti sono visivi l'esposizione possiamo spiegare guardate in questo test attenti lì c'è una penalità attenzione cosa fate in quel momento si fa l'attività quindi si fa il test e poi una sintesi finale un sommario benissimo ragazzi avete fatto questo test questi sono i risultati in questo test avete incrementato la ragilità abbiamo sviluppato queste caratteristiche e vi diciamo quindi anche con questo modello ideas potete sempre andare a creare le vostre lezioni avere sempre anche il bando della tassa e sbagliare anche il meno possibile quando si propone una lezione ma soprattutto perdere meno tempo la creazione di allenamenti graduali questo è un pochettino più rivolto a chi allena al di fuori della scuola ma perché no anche in un contesto scolastico perché se ho un gruppo sportivo scolastico sto preparando i ragazzi per i campionati studenteschi di badminton in questo caso ecco l'allenamento dovrebbe essere in un certo modo e qui lo trovate qui in basso cioè dal semplice al complesso dal lento al veloce dal prevedibile all'imprevedibile soprattutto poi se stiamo parlando di sport dove c'è un alto tasso invece di imprevedibilità come gli sport di situazione ad esempio dello sport del badminton ecco vedete qui c'è una bellissima cornice c'è scritto contesto tattico con queste frecce dal prevedibile all'imprevedibile dall'imprevedibile qui c'è un errore alla dispensa imprevedibile dal lento al veloce dal semplice complesso qui c'è un errore nella dispensa le andremo a correggere è giusto quello che avete visto prima semplice complesso lento veloce prevedibile e imprevedibile e qui c'è ad esempio una progressione non l'ho messa neanche di barminton l'ho messa di palla a volo leggiamola velocemente eseguire un palleggio della palla a volo senza palla con la palla con l'aiuto dell'insegnante utilizzando una palla fissa che mi aiuta quindi a colpirla perché non c'è discesa dalla palla al volo mano a mano aumentare andando fino a un livello meno prevedibile più veloce più complesso infatti l'ultimo c'è scritto giocare una partita con punti extra da segnare se il palleggio è stato vincente è stato effettuato in questo modo ok e questo vale un po' per tutte le discipline un po' per tutti i gesti che vado a allenare vado un pochettino step by step vado un pochettino spesso volentieri a concatenare un pochettino tutti quegli elementi che mi servono per insegnare un gesto piuttosto che una tecnica la gestione del gruppo anche questo è importante per perdere meno tempo in palestra se ci prepariamo una sessione sicuramente non vediamo in palestra boh cosa devo fare oggi chi lo sa quindi un'idea di cosa voglio fare in quel momento poi posso sempre cambiarla e posso sempre migliorarla le regole del gruppo cioè la sicurezza raggruppare sempre tutti quando bisogna parlarsi fair play sportività l'ho già detto appunto raggruppare l'intero gruppo in un punto vuol dire perdere meno tempo allora potete dire ragazzi quando dico stop tutti vicino a me perché vi devo dire un secondo una informazione in più su come si va a rampicarsi sulla spaglia le dimostrazioni vi ho già detto fornire dimostrazioni accurate cercarvi incaptare diversi stili di apprendimento perché come ho detto poc'anzi c'è chi impara visivamente allora è importante che io glielo faccia vedere bene se io non sono in grado abbiamo sempre in palestra un studente che è più bravo di noi magari in quello spot che non abbiamo praticato ok se uno studente in palestra che fa palla a mano probabilmente più bravo di me e può farmi vedere bene il gesto di come si lancia come si tira la palla quindi importante bene la dimostrazione captare diversi stili di insegnamento appunto perché chi impara visivamente è importante che abbia una buona dimostrazione chi impara in modo auditivo è importante che gli si fornisca i dettagli giusti ok come tiene la palla la posizione del gomito il gomito che avanza la rotazione dell'avambraccio ok e poi c'è anche il cinestetico che è quello che impara facendo le dinamiche del gruppo quindi fare votare se abbiamo anche dei disabili cerchiamo di mettere l'allume disabile sempre vicino a un compagno diverso in modo che anche si responsabilizzano lavorare sullo spirito di gruppo e anche equilibrare le esigenze di gruppo come nelle associazioni sportive anche a scuola abbiamo chi ha voglia di fare e chi ha voglia di non fare niente ok e quelli sono quelli che nella vita non faranno mai niente allora non è che quelli che non fa niente devono buttare giù il livello della classe dell'altra metà che magari voglio di fare quindi anch'io spesso volentieri chi ha voglia di farli più cura sicuramente quelli che non vogliono di fare di più e questo capita anche nelle associazioni sportive dal resto non tutti vogliono diventare campioni nelle associazioni sportive e tutti a scuola vogliono diventare fenomeni in scienza motoria o comunque avere un 9 o un 10 al finale sulla pagella i genitori oh quanto sono importanti i genitori i genitori perché comunque sono quelli che intanto possono accendere la cintilla per far sì che il figlio faccia sport e poi lo possono incoraggiare e supportare senza mai pressare troppo qui abbiamo degli esempi di genitori famosi che ce l'hanno fatta i maldini i cagnotto Agassi ha avuto un genitore che non so se avete visto l'autobiografia di Agassi il libro se l'avete letto molto interessante abbiamo Fionamei e poi abbiamo quel centro dei classici elementi chiuse di là di una gabbia i classici genitori che spesso troviamo sui campi da calcio che ahimè spesso è lo sport dove gli esempi di genitori sono i più tragici ma il genitore è importante perché appunto soprattutto deve dare il buon esempio e anche qui sia nel suo sportivo ma sia a scuola ad esempio quando abbiamo i colloqui individuali è mostrare cosa stiamo facendo nella nostra classe con i loro figli l'attività che stiamo facendo e dire anche loro gli obiettivi e mostrare i risultati messaggi da portare a casa ecco evitiamo quando alleniamo ripeto sia in palestra sia fuori da palestra ma però Raffaella sei stata molto brava a fare quell'esercizio però se avessi fatto così ecco gli hai dato un feedback positivo poi gli dici il ma però che va a eliminare tutto quello che è positivo e gli hai detto prima ok quindi il ma però è una congiunzione avversativa sia il ma che il però che abbassano l'improcanza di quello che è stato detto in precedenza ok puoi utilizzare anche il ma però magari in un contesto un pochettino diverso con una strategia un pochettino diversa gli inglesi lo chiamano il shit sandwich shit come cacca il panino con la cacca ovvero un sandwich ci metto il pane ci metto in mezzo la cacca e poi ci rimetto il pane sopra ok quindi gli do un feedback buono mangiti un po' di pane ok poi gli do un po' di cacca dentro quindi ma però facciamo un esempio sei stato veramente molto bravo a schiacciare hai fatto un bellissimo gesto hai portato sulla racchetta però il volano è finito fuori mettiamoci un po' di pane ma non è importante perché ci stiamo allenando a utilizzare quello schema utilizzare quel colpo in quella situazione e vedrai che domani ti lo farai molto meglio ok ricordatevi allora questo shit sandwich feedback positivo feedback inreattivo ma finiamo con un feedback positivo ok il non cerchiamo di non dirlo mai lo so che lo diciamo tutti ma provate anzi sperimentate perché anche provare non va bene è scritto subito dopo sperimentate a dire a un bambino non buttare il cibo dal seggiolone la prima cosa che fa è lo butta per terra ok non buttare il non è una sfida allora la stessa modo la stessa indicazione glielo puoi dire senza il non invece di dire non buttare il bicchiere per terra dal tavolo lascia il bicchiere sul tavolo è la stessa cosa io che ho due bambini piccoli una piccola sa tre anni ma quando effettivamente era piccolina ho sperimentato e non provato ho sperimentato a evitare di dire sempre no effettivamente funziona la difficoltà è chi deve mettersi nei panni di dire alcune parole è quella difficoltà perché siamo abituati purtroppo spesso a parlare così ok e anche il perché non mi riesci gli fai già una domanda come dire Raffaella perché non riesci Raffaella può pensare perché mi chiede perché non riesco perché sono una sfigata ecco invece di dire perché non riesci Elisa io posso dire Elisa ma se ci riuscissi cosa cambia cosa cambierebbe ok ma vai dai sei capace vai tu sperimentalo divertiti ok sperimentare divertiti parole con significato diverso che hanno preso diverso sul cervello ok ricordi sempre che tu sia a scuola che tu sia nel tuo club di qualsiasi sport o faccia siete tantissimi di considerare i giochi variandoli in ritmo in spazio in tempo in condizioni materiali in abilità mettendoci anche spesso degli aspetti cognitivi io mercoledì ho fatto un test dove c'erano anche gli aspetti cognitivi dove bisognava in una fase di corsa poi di lancio fare una somma ad esempio molto semplice presa a casa prendo due pagine di un libro mettiamoci sempre gli aspetti cognitivi perché sappiamo tutti che chi fa sport è più bravo anche nella scuola quindi mischiamo comunque entrambe le cose quasi finito questa prima parte botta risposta quanto tempo a sessione guardate che bastano 45-60 minuti fatti bene all'inizio va benissimo solo divertimento ma non deve essere solo divertimento di giocare ad ambito accompagnare la racchetta e spadellare facciamole appassionare una volta ma poi diamogli quegli elementi per governare la racchetta quindi introdurre piano piano anche la tecnica nessuno mi ascolta è normale i bambini non ti ascoltano neanche i ragazzi ti ascoltano ma quando vedono la tua professionalità ti ascolteranno sempre di più in modo di ottenere la voce affavola raggruppali e succede anche con i ragazzi del superiore che a volte bisogna affavolarli e come mi devo comportare vedete c'è scritto in fondo alla slide vale per i bambini ma vale anche per gli abiti gioca con loro perché se ti metti in gioco anche tu loro si divertono di più anzi dicono beh se lo fa il prof lo posso fare anche io ah però guarda il prof che bravo che gioca con noi e tanti altri pensieri che loro vengono in testa ok quindi dai sempre comunque il buon esempio ok interrompo un attimo la condivisione grazie intanto siete 817 numero stratosferico e questa era la prima parte del manuale ok ricordo che il manuale mi sarà consegnato la seconda parte del manuale è invece un eserciziario ok io l'ho chiamato eserciziario 21 perché 21 perché 21 è il punteggio di fine set quando si gioca a badminton a badminton si gioca al medio dei tre set quindi se io vinco due set ho vinto l'incontro in caso di un set pari si va al terzo set ok e si gioca set a 21 punti immaginate come la pallavolo ok quindi finché faccio punto servo io batto io come nella pallavolo ok quando perdo il punto quando sbaglio il punto passa all'avversario e anche il servizio passa all'avversario quindi il volano la battuta il servizio passa all'avversario e si arriva fino a 21 punti attenzione una pillola di punteggio del badminton in caso di 20 pari si va a 22 vince che arriva a 22 in caso di 21 pari vince che arriva a 23 così via così via fino a 29 pari 29 pari vince che arriva a 30 cioè non si va a oltranza ok quindi comunque un set finisce a 21 in caso di 20 pari si va a questi mini time break fino a un tetto massimo di 30 se ne i singolari se ne i doppi ok allora si chiama eserciziario 21 perché appunto io vi ho fornito 21 giochi ok adesso io vi farò vedere questi giochi e li faccio vedere in video li ho registrati tantissimi sono registrati anche nella palestra del IIS Ritali Montalcini di Acquiterme in un'ora buca e mi vedrete solo me nel video ma immaginate che ci sia una palestra con una classe intera o anche con due classi ok poi dipende ovviamente dallo spazio della palestra vedrete che per ogni video sul manuale ci sono anche delle possibili variazioni come lo stesso esercizio lo puoi far diventare più semplice o anche più complicato o come lo puoi adattare in caso di alunni con disabilità ok allora vi ricondivido il manuale eccolo qua e vedete siamo qui all'eserciziario 21 ecco vi mostro solamente come diciamo strutturato il primo gioco si chiama il semaforo vedete c'è scritto obiettivi utilizzo dello spazio attenzione utilizzo differenti movimenti il materiale che ci va se ci va per qualche volta non ci va neanche le possibili variazioni e gli adattamenti in caso di alunni con disabilità come vedete qui qui c'è un link cliccando su quel link ti fa vedere anche il video del gioco dell'esercizio video che è comunque spiegato nelle prime righe sotto il titolo quindi il semaforo in uno spazio del metato il comando dell'insegnante a rosso verde giallo gli allievi si muovono con differenti andature a seconda del colore chiamato quindi il gioco è sia spiegato sia anche mostrato e così tutti gli altri vedete il semaforo lo specchio la mitragliatrice la scherma l'hokey e via dicendo ok fino ad avere una lista di 21 giochi barra esercizi io lo chiamo più giochi mi piace più chiamarli giochi che esercizi ok io adesso ve li mostro ok ve li mostro andando già a spiegare quello che c'è scritto nel manuale ok calcolate quando avete il manuale voi cliccate sul link e se non vi ricordo il gioco ve lo potete consultare e cosa volevo dirvi ancora questo ma non mi ricordo mi è scappato ovviamente quindi vado avanti allora vado a condividere lo schermo eccolo qua eccolo qui ecco volevo dirvi questo questo mi è venuto in mente volevo dirvi che questi 21 giochi non sono fatti a caso non sono buttati così nel manuale a casaccio è una progressione didattica ok quindi a mio avviso anzi non a mio avviso te lo consiglio devi farlo dovete farlo partite con il primo gioco e poi andate fino all'ultimo perché un gioco introduce poi un'abilità che ti serve nel gioco o nell'esercitazione successiva ok allora se segui un pochettino questi giochi e come abbiamo detto prima nelle fasi dell'apprendimento motorio nella fase cognitiva più che altro associativa nella fase di mezzo è importante ripetere fino a che un gesto è più o meno corretto siamo a scuola non è che dobbiamo avviare i campioni del mondo del mondo del mondo di barminton o di altri spot passa al gioco successivo talco che in quel gioco lì stesso ci può stare più e più tempo perché comunque tutte le variazioni proposte nel manuale ok vado adesso a prendere direttamente dal google drive sono contenuti lì e voi avrete l'accesso eccolo qui vado a prendere i giochi allora il primo è il semaforo ok vado ad aprirlo eccolo qua e qui avete due ragazzi ma ripeto puoi farlo con tantissime persone spazio delimitato lo spazio con le strigite e le ragate a rosso è un comando al verde è un comando al giallo un altro comando rosso ti fermi verde cammini giallo cammina lì indietro rosso ti fermi e vi dicendo ok io poi vi do subito una variazione bellissima bellissima che io chiamo il lucchetto ok diciamo ragazzi a rosso ti fermi al verde corri al giallo corri indietro ok poi intanto variamo a rosso ti fermi facendo un muro tipo pallavolo al verde fai dei passi accostati definiti chassé nel bandito al giallo fai dei passi incrociati e le cambi il lucchetto funziona così dico ragazzi ricordatevi le combinazioni l'ho fatto i primi mesi quasi tutte le lezioni dal settembre ottobre anche per vedere come rispondivano rosso ti fermi verde corri giallo corri indietro ok però ragazzi se vi dico uno due tre è la stessa cosa quindi aumentano le combinazioni il rosso ti fermi manca l'uno ti fermi al due corri ma anche al verde corri al giallo corri indietro ma anche tre corri indietro ok e le mischi rosso due uno oppure rosso verde giallo uno due tre fabio luigi e i movimenti sugli stessi ma loro devono dare a prendere a reclutare le informazioni giuste nel cervello per fare proprio il movimento rosso verde giallo uno due tre giovanni luca luigi pallavolo calcio badminton fino ad arrivare un tot di combinazioni che non possono gestire ok a una classe dove sono molto bravi vedo di qua guarda la seconda identità molti cini sono riusciti a fare cinque combinazioni che sappiamo gestire senza argori con i colori con i numeri con i giochi dello sport con nomi di persone con nomi di professori si relativano anche ok quindi questo è il semaforo ok quindi un primo gioco anche di riscaldamento dove potete inserire poi anche quei movimenti motori tipici del badminton vediamogli la corsa in avanti tipica nel badminton la corsa indietro tipica nel badminton il passo accostato viene definito in tanti modi passo accostato cipollamento laterale galoppo laterale si chiama chassé a livello internazionale che è questo ok passo incrociato quindi potete andare a mettere quei movimenti tipo le sport che state proponendo in quella sessione a scuola perfetto e questo era il semaforo andiamo a vedere il secondo gioco dell'eserciziario 21 il secondo gioco è lo specchio ok abbiamo due all'unico di fronte all'altro ripeto qui per esigenze di video mi vedete in due ma immaginate una palestra con 20 persone con 30 persone quanti ne avete in classe ok e bisogna copiare faccio vedere si parte in questa posizione si fa una divaricata si chiudono le gambe una divaricata in diagonale si chiudono le gambe una divaricata in diagonale si chiudono le gambe una divaricata che assomiglia un po' alla posizione della pallavolo ma anche la posizione del badminton che è quella di difesa tipo modello squat tipo modello bagger ok e poi si riparte da capo rivediamo divarico in diagonale in diagonale grande divarico in diagonale in diagonale grande ok e vi assicuro che ci sono degli alunni che hanno difficoltà a intanto a fare alcuni movimenti più che altro a sincronizzarsi con il compagno davanti e anche questa la sincronizzazione è entrata comunque in empatia con un compagno importante in quegli sport poi anche di squadra o in quegli sport dove si gioca in due ad esempio il badminton dove si gioca il doppio come anche nel tennis ad esempio il badminton dove c'è anche il doppio maschile il doppio femminile ma anche il doppio misto cioè io che gioco nella mia parte di campo assieme a una compagna a una ragazza ok e questo è lo specchio il terzo è la mitragliatrice ok abbiamo un alunno davanti al muro staccato di un metro e un alunno a distanza di due o tre metri io in questo caso i volani magari qualcuno dice a scuola non ce l'ho puoi prendere delle palline indicate il giornale costa niente le avviluppi e fai tirare le palline che non fanno neanche male come i volani che pesano qualche grammo indicazione se hai i volani ecco dai l'indicazione mi raccomando il volano va lanciato cercando di colpire l'avversario dal collo in giù dallo sterno in giù perché il volano non fa male perché pesa qualche grammo fa male solo se arriva negli occhi lì fa male calcolate che in questo momento stiamo lanciando mano anche se arrivasse negli occhi non farebbe male lanciato con una racchetta vi informo intanto che a Parmento si raggiungono delle velocità fino e oltre a 400 km il record di smash di attacco di schiacciata 493 km più di una Formula 1 capite se abbiamo un volano con la velocità in un occhio ti passa dall'altra parte l'occhio ma quello è l'unico caso ma stiamo parlando anche di velocità che a scuola nessuno riesce a raggiungere comunque in questo gioco lanciamo con le mani qual è lo scopo? io lancio il mio compagno deve andare a schivare e adesso io lo sto lanciando molto piano perché faccio vedere la tecnica di lancio guardate il gomito dietro alto come si gioca a barmento sopra la testa come si gioca a pallavolo sopra la testa come si gioca a teni sopra la testa come si gioca a palla a mano a palla a nuoto o si tira un giardellotto sopra la testa e altri gesti ancora che in questo momento non mi vengono in mente ok? gomito alto dietro gomito che va in avanti vedete? gomito che va in avanti e rotazione dell'avambraccio ok? quello faccio vedere in monto dopo in torno di volani si cambia si chiama la mitraglia circolatrice perché appunto l'idea è quella di schivare il volano che viene lanciato dall'avversario allora questo è importante questo gioco perché ricordate negli sport di racchetta e quindi non sto parlando solo di badminton se sai lanciare sai colpire ok? chi non sa lanciare ergo quelli che lanciano così mi metto anche di lato così come se fosse una fraccetta non funziona gli sport di racchetta ma anche in altri sport vedi la palla a volo palla a mano palla a nuoto come si lancia un attrezzo ok? come si scaglie una racchetta in questo modo tenendo il gomito dietro l'alto ok? adesso io quando l'ho in mano portando il gomito del braccio con cui lancio in avanti ok? io dico sempre alla mia figlia il gomito deve andare in salita verso l'alto perché se il gomito va così poi non riesco bene a gestire la rotazione del mio avambraccio quindi il gomito dietro il gomito che sale verso l'alto in questa fase mi metto di dietro in questa fase il gomito che va in avanti fa ruotare l'avambraccio l'avambraccio è ruotato ok? ha fatto una supinazione perché? perché se supina poi dopo per lanciare per tirare deve pronare allora vado ad usare l'avambraccio che funziona come una fionda che tira forte perché non è perché ha dei grandi muscoli perché soprattutto è la tecnica corretta ok? quindi preparo il gesto carico il gesto scarico il gesto e ragazzi che siete qui vi dico questa cosa magari qualcuno di voi lo sa già qualcuno di voi non lo sa il badminton è tutto qui nella rotazione dell'avambraccio supino prono ok? supino supino prono vado sul rovescio prono supino a badminton e lo dico con il non non si gioca di polso se qualcuno vi ha detto in qualche corso badminton si gioca di polso ditemelo che lo vado a prendere a calci nel sedere ok? il badminton non è un gioco di polso come tutti i giochi di racchetta prono supino azione dell'avambraccio in qualche colpo il polso prepara la racchetta chiude il colpo in qualche colpo altrimenti non lo usi mai ok? rotazioni dell'avambraccio e perché il gioco della mitra elettrica è importante? perché se noi facciamo lanciare senza correggere un minimo la tecnica cioè che lancero così ma come ci giocano poi con la racchetta? così come ci fanno i servizi per la pallavolo? così ok? che va bene si divertono anche però un gesto non trasferisci nessuna disciplina forse lo trasferisci nelle fraccette ok? quindi andiamo all'inizio del manuale perché è importante insegnare bene? perché se insegno bene ok? intanto riesce meglio e si diverte di più quello trasferisce ok? quindi a scuola abbiamo anche un pochettino senza alcun pochettino abbiamo l'obbligo ok? di cercare di imbastirli decentemente qualsiasi spot proponiamo perché se li facciamo sempre solo giocare va bene ma sappiamo che poi il gioco anche spesso è molto povero è limitato una pallavolo giocata con alunni che non hanno assolutamente i fondamentali ma neanche saper calcolare il traiettore della palla la discesa della palla è una pallavolo che non è giocata servizio non preso servizio battuta fuori battuta dopo 10 minuti che passa miracolosamente la rete e la gente che non sa metterci neanche le mani sotto per fare un bug ok? un minimo un minimo di fondamentali per poi farle giocare una pallavolo docente come anche un bug ok? allora questa era la mitragliatrice che era sempre un gioco dell'eserciziario 21 andiamo avanti ricondivido lo schermo eccolo qua e abbiamo la fontanella la fontanella anche qui è un altro esercizio che insegna a lanciare sopra la testa come ho fatto a vedere poco anzi ma anche afferrare il movimento dal basso se mi metti in monitor dal basso con la tipica postura atteggiamento della scherma allora c'è questo ragazzo che lancia sopra la testa e poi che afferra? guardate il ragazzo bianco lancia sopra la testa e poi va a ferrare con una tipica presa da badminton ok io cosa faccio che sono dall'altra parte blocco il suo volano lo afferro e quando il volano del mio compagno in aria glielo lancio vedete sono due volani in gioco non abbiamo i volani palline di spugna palline da tennis palle di di carta rotolate ok materiale possiamo sempre costruircelo e questa è la fontanella ok anche lì facciamola cercando di dare degli accorgimenti quindi il lancio l'abbiamo visto fatto in un certo modo ok e la presa la presa è quella classica della scherma conosciamo tutti no la presa fatta in questo modo fatta in questo modo meglio ancora se col braccio dietro allungato perché dono equilibrio che è semplicemente corretto mi raccomando l'affondo lo vedete il mio piede ecco l'affondo non così ma con il piede in linea con il ginocchio quindi da raccolare con i fondamentali che vabbè ci servono nel barminton ma ci servono anche in altri sport ok perfetto e questa era la fontanella veniamo al prossimo esercizio vi ricordo che se tutta questa progressione la fate partendo dal primo gioco al semaforo arrivando fino all'ultimo arriverete agli ultimi giochi dove c'è più barminton giocato dove c'è il barminton molto più giocato che sapranno governare la racchetta il segreto è quello non accontentatevi di dargli immediatamente subito la racchetta e farli paneggiare perché paneggeranno ma poi sarà molto più difficile correggere gli avori dopo ok fate queste esercitazioni molto più ludiche molto più divertenti la scherone eccola qua prossimo gioco intanto qui si è sempre in due immaginate di essere intanto in palestra abbiamo la racchetta se non avete la racchetta anche senza racchetta ecco c'è un giocatore che attacca il giocatore bianco e poi il giocatore blu che attacca il giocatore bianco attacca il giocatore blu si ferma e attacca il giocatore davanti ok quindi quando il giocatore che difende si ferma c'è il cambio di ruolo tra attaccante e difensore e questi sono passi tipici della scherma vi sembra di vedere Aldo Montano invece sono io sono Fabio Morino vi sembra di vedere un giocatore una tetra di scherma invece è assolutamente un giocatore di barminton perché questi passi tipici dell'avanziamento della scherma poi sono passi tipici che troviamo anche nel barminton quando si va verso la rete ok perfetto questa va la scherma dopo la scherma possiamo vedere l'ok ok l'ok intanto sempre due ragazzi ma immaginate che di fianco a me verso le spagniele ci sono altri ragazzi prima di me ci sono altri ragazzi quindi possiamo creare una sorta di competizione abbiamo una racchetta usiamo una racchetta se non abbiamo una racchetta possiamo usare dei diali delle cartelline qualcosa che funghi da bastoni spingiamo un volano una pallina con l'obbligo di spingerla una volta usando il palmo della mano quindi in diritto una volta ruotando l'ambraccio ecco qui la famosa ruota dell'avambraccio usando il dorso se mi vedete il monitor una volta spingo la pallina così e una volta la spingo così di rovescio una volta la spingo di diritto una volta la spingo di rovescio intanto sto andando a allenare il diritto è rovescio e se gli dico anche come mettere le mani sull'impugnatura ok faccio anche cosa vuole giusta l'impugnatura l'impugnatura l'ambraccio si tiene come prima nella scherma nella scherma quando giochiamo il gioco prima l'impugnatura va diventata così diritta se noi abbiamo degli alunni che tengono la racchetta così signore e signore collegati questo è il primissimo grande amore che potete fare così non andrò da nessuna parte sarò limitatissimo la racchetta si tiene diritta di taglio poi giro l'avambraccio quindi lo supino lo ruoto esternamente e gioco di diritto lo ruoto internamente quindi lo prono e gioco di rovescio quando lo ruoto internamente sul rovescio l'impugnatura subisce una piccolissima e facilissima variazione facilissima ovvero che il pollice va sdraiato sul manico invece di essere chiuso perché nell'impugnatura precedente vedete che il pollice chiuso quasi va a incontrarsi con l'indice allora questa è l'impugnatura che si chiama AV perché AV perché vedete che si forma una V tra pollice e indice allora se vedete i ragazzi che tengono la racchetta così a martello è sbagliato è sbagliato questa è l'impugnatura giusta AV che la usi dove? sul diritto sotto mano sul diritto sopra la mano sul diritto sopra la testa si chiama impugnatura AV o di base perché quella è più utilizzata ok? sul rovescio è molto semplice il cambio di grip cioè lo fanno veramente i bambini basta dirvelo basta dirvelo il problema se tu se non glielo dici non lo sanno ok? quindi grip AV per il diritto se voglio andare sul rovescio cosa faccio? il pollice lo allungo sul lato del manico perché serve questo pollice? perché se lo allungo oltre alla rotazione per colpire il pollice sotto mi funge da sostegno sul manico e aiuta nella propulsione e fa spingere il volante verso l'altro ok? quindi già nella scherma prima ma anche nell'occhi diciamo diciamo in pugnatura perché poi quando andiamo a giocare col volante se ne ritrovano sanno che cosa sono vedete l'importanza della propria identica che non la fa quasi mai più nessuno maledetti a noi ok? quindi al via partono tutti quelli che sono sul mio lato immaginate dieci persone vicino a me partono un diritto un rovescio un diritto un rovescio dall'altra parte c'è il compagno che parte là anche lui e deve arrivare dove ero io vince la coppia che arriva per primo posto ok? io sto andando molto piano per farlo vedere immaginate che ragazzi vanno in 200 all'ora però anche lì voi controllate il gioco se vedete che qualcuno tiene male la racchetta o non fa diritto rovescio stop fanno un secondo ok? puoi ripartire gli devi una piccola penalità perché comunque seppur un po' la tecnica poi ripeto è facile che dopo se la ritrovi correttamente abbiamo visto la scherla abbiamo visto l'hockey abbiamo visto il golf il golf un pochettino come l'hockey precedente mettiamo i compagni uno dietro uno in fianco all'altro ok? quindi immaginate dieci persone in linea con me la racchetta tenuta esattamente come prima quindi con grip a V con la racchetta di taglio mettiamo due mani sopra con la casca di un pugnatura del golf il volano rimolto verso l'alto se ce l'ho se non una pallina va benissimo in questo caso palline di carto di giornale eseguo questo swing che è tipico del golf ok? eccolo qui swing vado a portare il volano in avanti lo metto su e vado a rigiocare a golf parte il mio compagno ok? questo esercizio è fatto ovviamente lentamente per farlo vedere parte il mio compagno e lui deve fare la stessa identica cosa vince la coppia che arriva in posizione di partenza per primo anche qui perché è importante questo esercizio o gioco perché è una staffetta quello che abbiamo visto prima nell'hockey e nel golf è una staffetta della propria è importante perché la rotazione del braccio grip quindi il pugnatore ok? e se prima vi ho detto il badminton è tutto la rotazione ok? quelle fondamentali ma gli sport delle racchette signore e signori le impugnature sono fondamentali perché io se a tennis capite che gioco sul diritto con l'impugnatura così e provo ad andare a giocare di diritto magari c'è uno del mondo che riesce anche a diventare fuoco un mondo in eccezione che c'era si chiamava la settimana uno spagnolo le impugnatura sono corrette come impugno la racchetta vuol dire poi andare a determinare la faccia della racchetta sul volano perché se io ho una impugnatura corretta riesco poi ad avere una rampa di lancio un'inclinazione della testa della racchetta sul sugo del volano corretta che mi già metterà il volano alto piuttosto che basso piuttosto che chieso quindi io dico sempre a quelli che mi chiedono ma cos'è che insegnaresti per primo del badminton rotazioni e impugnature una volta che quello il gioco fatto ok? le impostate veramente bene e andiamo avanti ricondivido lo schermo perfetto siamo al golf andiamo all'autista ok autista anche qui mi vedete in due ma siamo intatti in palestra in uno spazio magari che si fa più grande si fa più piccolo vedete che c'è un ragazzo che ha gli occhi chiusi e deve tenere gli occhi chiusi a un ragazzo che è l'autista che è quello dietro quindi in questo caso il ragazzo bianco è la macchinina io sono l'autista che devo portare la macchina ecco e lui va dove dove dico io vedete come tiene la racchetta in questo modo io vedete lo tiro indietro lo spingio in avanti lo faccio ruotare lo faccio ruotare tutto questo fidandosi di me quindi occhi chiusi quindi immaginate una palestra a tante persone ok non avete la racchetta potete usare dei bastoni potete usare anche delle cartelline va bene e questo intanto cos'è che insegna affidarsi del compagno cosa fondamentale spesso volentieri non ci insegna solo il bar intorno anche la bibbia ma affidarsi perché quando si gioca un doppio che sia doppio mastile femminile o doppio misto è importante non trovare l'empatia con lui e poi per me in questo caso che stavo spingendo con la racchetta siamo sempre lì impugnature corrette e movimenti corretti del mio braccio l'impugnatura com'era? era quella di prima ok? io l'impugnatura così vedete la classica impugnatura AV la vedete la V ok? letta anche di base perché è l'impugnatura più utilizzata la metto la pianto nella schiera del mio compagno immaginate che il compagno la doveva tenere così con due mani ben salda ok? a questo punto io che sono un autista vedete che mi faccio allungo e lui va avanti fletto e lui viene indietro supino e lui gira da un lato prono e lui gira dall'alto e questi sono gli movimenti che lui si con la racchetta poi giocano avanti ti allunghi e vengono il piede del volano ok? fletti ok? fletti e poi ti allunghi e soprattutto ruoti sono i movimenti che si usano al badminton ok? quindi giochino che serve per tante cose non solo per il badminton ma comunque sempre andare a evidenziare rotazioni impugnatura movimenti classici della nostra disciplina e vado avanti ricordatevi dello schermo eravamo rimasti all'autista e dopo l'autista abbiamo il gioco esercizio che si chiama volano posture con il gioco di parole volano volare infatti c'è l'accento su no volano posture molto semplice tanti persone in palestra eccolo vedete che io sto mostrando il grip a V vedete? guardate qua la V eccolo qua ricordatevi che questo è il grip che è maggiormente utilizzato grip a V grip a V ruoto avete visto che sto ruotando il mio braccio avambraccio ok metto un volano se non c'è un volano una pallina e vado per la palestra cammino senza farlo cadere così familiarizzo con l'attrezzo ok faccio un po' più di equilibrio e ogni volta che il mio professore di scienze potere mi dice abbassati mi abbasso e poi il mio professore mi dice adesso Fabio fermati in questa posizione e io lo faccio adesso Fabio fermati in questa posizione e Fabio lo fa bravo Fabio adesso Fabio continua fermati in quest'altra posizione sei pronto Fabio si va bene adesso ci provo va bene ecco benissimo ottimo Fabio adesso continua Fabio fermati in questa posizione devi portare il volano lì devo girare tutto il mio braccio per fare tutto ciò bene non è caduto se cade il volano nessun problema lo rimettete a posto non c'è nessun problema fermati in una specie di plank bene bravo Fabio ok intanto gli fate fare anche qualche esercizio ok e qui avete alcuni esempi di posture ma chi più ne ha più ne metta ok e questo è la volano posture ripeto si può fare con quante persone si vuole in palestra dopo volano posture c'è volano passi o volano passi sempre gioco di parole che in federazione mi prendono sempre in giro perché amo giocare con le parole volano passi intanto se vedete in questo esercizio tengo la macchetta in modo diverso la tengo più corta la tengo nella T se mi vedete in monitor la T è proprio quella giunzione che c'è tra lo stelo e la testa della macchetta è un pezzo di ferro che unisce le due parti della racchetta soprattutto quando la racchetta è diciamo economica le racchette di ottimo livello come questa che ho vedete non hanno c'è sempre la T ma non hanno quelle quelle annesso che serve a unire testa e stelo ok quel pezzo in più quindi in questo caso io lo tengo corto perché è facilitato tenere una racchetta in quel modo vuol dire semplificare l'attività ok e in volano passi o volano passi il professore mi dice Fabio corricchia va bene prof Fabio fai i passi chassè eccoli qua i passi chassè mi ricordo che questo passo è molto utilizzato nel banchetto si chiama chassè come anche nella danza ok passo chassè poi mi dice Fabio fai adesso poi mi dice Fabio allunga il manico e va bene io allungo il manico allora cambia cambia tutto ragazzi perché cambia l'equilibrio cambia come devo portare il volano cambia la sensibilità ok cambia anche l'intensità della presa che doveva sul manico ci sono paracchi cambiamenti ok mi dice cammina all'indietro io cammino all'indietro e mi dice vediamo se dice qualcos'altro mi dice di fare un passo incrociato anche questo è un passo tipico del badminton incrociare mi dice di andare su un piede a volte nel badminton si usa e mi dicendo ok io ho messo alcuni movimenti chi più ne ha più ne metta ok volano passi il prossimo è la cannonata ok purtroppo in questo video è stato tagliato chi esegue il corpo cioè me ma ve lo spiego c'è un giocatore a terra ok possiamo farlo partire pancia terra però possiamo farlo partire pancia all'aria supino su un lato come volete voi tutte le variazioni c'è un giocatore indietro immaginate io sono dietro che tengo la racchetta e dirò il nome del giocatore a terra in questo caso si chiama Marcin questo ragazzo e dirò Marcin Marcin parte io effettuerò un servizio dal basso e Marcin dovrà andare a raccoglierlo con due mani oppure anche con una mano ecco vedete si vede che sono io dietro io dico Marcin Marcin parte subito dopo vado a colpire il volano e quindi in questo caso voi potete andare a introdurre una sorta di battuta di servizio anche molto orientale intanto ricordatevi che il servizio più facile nel badminton non è quello di diritto ma è quello di rovescio allora se i ragazzi servono così di diritto vi assicuro che avranno difficoltà per un gesto più completo più complesso il servizio più facile si fa di rovescio come si fa il servizio di rovescio tengo il volano con le piume tra le piume con le dita pollice e indice racchetta con un grip che non abbiamo visto prima prima abbiamo visto grip a v poi abbiamo visto grip con il pollice sdraiato di lato questo grip si dice ad angolo il grip con il pollice invece con il pollice sdraiato sul lato più largo della racchetta la racchetta è formata da dei piccoli lati una racchetta normale vedete la racchetta è formata da dei piccoli lati vedete questi piccoli lati il grip a v è in questo modo ok quindi diciamo che la punta della mia v questa è la punta della v cade qui in questa posizione qua il grip ad angolo basta allungare il pollice se ci fate caso il mio pollice vedete cade nell'angolino del del tappo della racchetta quello si chiama ad angolo perché il pollice cade su questo lato ok il grip con il pollice cade sul lato più largo che è questo oppure l'altro allora grip con il pollice sul lato più largo largo presento la racchetta davanti allo stomaco mi metto in questa posizione col piede destro in avanti ok col piede destro in avanti mi metto in questa posizione molto semplice e faccio il mio salvezio di rovescio come lo faccio a ruoto e a ruoto trono su fino se lo faccio lentamente il volano andrà corto se lo faccio velocemente il volano andrà lungo questo è il servizio di rovescio potete utilizzare nel gioco di prima canonata quindi com'è il gioco mi metto dietro il compagno immaginate che qui sotto c'è un mio compagno spesa a terra il compagno è pronto e gli dico marci non lascio alzare gli do un secondo di due secondi di vantaggio faccio il servizio quindi un bravo verso l'alto do un po' di spinta ok spingo anche col pollice ma poi adesso non riesce importante questo pollice perché spinge e lui va a farlarlo e anche lì variazione sull'afferrare lo afferri con una mano bene lo afferri in questo modo modello scherba modello badminton lo afferri anche con la mano non dominante va bene lo afferri basso dovrei fare tipo un mezzo squat modello bagger ma modello anche posizione del badminton quando vai in difesa ecco sempre delle variazioni sei a terra supino sei a terra prono sei a terra ingerocchiato o sei con le testa rivolti in avanti con le testa rivolti verso i piedi ti chiedi alla canonata le variazioni sono tante che trovate sempre nel manuale ok 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 Grazie a tutti